Io onestamente non ho parole, siamo all'anno pieno dell'incendio di fuoco, il sottobosco di località Matteuzzo, il sottobosco è tutto bruciato, gli alberi forse si riprenderanno la situazione è davvero drammatica, ho parlato con alcune famiglie residenti in zona e hanno vissuto ieri intorno alle 14, 10 minuti, 15 minuti di vero panico, in 5 minuti di scatenata dell'apocalisse, come vedete qui ancora c'è fumo, e potrà finire davvero male.